Alessandro Greco, direttamente dalla Blogosfera, ospite a Bruxelles, ospite alla Camera dei Deputati con Marcello Foa, con Marco Zanni, con Antonio Maria Rinaldi, esperto di social media marketing hai un profilo Twitter che io seguo da tanti anni, rituitatissimo, ti occupi di economia oggi sei qui per raccontarci cose, innanzitutto buongiorno Buongiorno a te Claudio, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa, dai vari telefonini sono qui per raccontarvi una storia che ho già raccontato più volte ma visto che la propaganda lavora a pieno regime, sai come si dice in gergo no? c'è la famosa frase, ripeto una bugia, dieci cento, un milione di volte diventerà una verità allora noi ripetiamo una verità dieci cento, un milione di volte finché questa verità non sia ormai a me presa era Goebbels che diceva questa cosa qua assolutamente sì, era Goebbels sono stanco di sentire in televisione dopo sette anni la balla che Monti ha salvato il paese non ne posso più di sentirla qualche giorno fa in tv c'era la Fornero che ha dichiarato che la sua riforma era necessaria per trovare i soldi per l'indomani per pagare gli stipendi e le pensioni questa è una balla clamorosa e ora che va smontata del tutto perché non se ne può più va bene, io so che tu hai portato dei dati a supporto, vero? vogliamo vederli? assolutamente sì, ho preparato una ricostruzione abbastanza dettagliata qui per esempio cosa vediamo? qui vediamo il percorso dello spread che come si vede fino a luglio più o meno è lì, silenzioso poi a un certo punto impenna fino ad arrivare al suo top storico nel 9 novembre quando chiude a 552 punti base dopo aver raggiunto anche la quota di 574 l'impennata dello spread viene attribuita dalla stampa internazionale in particolar modo quella europea alla scarsissima credibilità di Silvio Berlusconi allora premier che faceva festini a casa sua pare anche con delle escort minorenni che faceva cucu alla Merkel frequentava quel cattivone di Putin quindi insomma c'era assolutamente la necessità di mettere mano a questa situazione e infatti se vai avanti con le slide ti faccio vedere una slide meravigliosa che è quella del sole 24 ore che il 10 di novembre titola fate presto a cacciare Berlusconi si intende perché stava portando il paese verso il baratro ora questa è una bellissima ricostruzione della narrazione la realtà è che poi effettivamente Berlusconi si dimette un paio di giorni dopo nel frattempo però il presidente della repubblica allora Giorgio Napolitano nomina premier Mario Monti per amore di verità di verità diciamo anche che Berlusconi si dimette soprattutto per tutelare le sue aziende perché nello stesso giorno la media se subisce un tonfo in borsa clamoroso perde il 12% in poche ore fatto sta che comunque Berlusconi viene così costretto a farsi da parte però io ricordo che in quel periodo quando Berlusconi si fa da parte c'era gente che stappava le bottighe di champagne diciamo il 99% del paese per lo meno quel 50% che non lo votava poi c'era uno 0,100% che invece diceva no aspetta chi è? avete visto chi è questo signore e cosa viene a fare? c'eravamo anche noi soprattutto c'eri tu in particolar modo qualcuno che stimo molto il giorno stesso della nomina di Monti apri un blog che ormai è mainstream e ci disse che i suoi salvataggi non ci avrebbero assolutamente salvato ma prima di lui addirittura la BCE mise nero su bianco in un suo bollettino mensile quello di ottobre che il debito pubblico italiano non era assolutamente un problema la cosa curiosa è che mentre tutto questo è agli atti il giorno della nomina di Monti l'unità titola la liberazione è paradossale che un giornale fondato da Gramsci goda della delegittimazione di un governo ad opera dello spread un governo per quanto possa essere antipatico democraticamente eletto e questa cosa è abbastanza assurda poi se vogliamo è abbastanza simpatico il fatto che comunque Berlusconi per quanto antipatico è ancora lì mentre l'unità non c'è più io come ho detto già a Bruxelles ho il mio sogno erotico che è quello di Berlusconi che compra l'unità per quanto riguarda la fiducia a Monti va detto che Monti ottenne la fiducia al Senato con quasi tutta l'arco parlamentare che gli diede la fiducia tranne una piccolissima forza politica che all'epoca vantava un esiguo numero di parlamentari che era appunto la Lega comunque fatto sta che nonostante la Lega contraria Monti ottiene la fiducia e inizia la sua opera di risanamento dei conti pubblici un'opera che tutti ricorderanno in particolar modo la prossima slide ci ricorderà qualcosa il pianto di Elsa Fornero all'annuncio della sua necessaria riforma delle pensioni una riforma definita lacrime e sangue lei ci ha messo le lacrime e qualcun altro ci ha messo il sangue fatto sta che le riforme vanno avanti e il premier Monti nella prossima slide possiamo vedere questa è una parte dell'Economist che dichiara che in tre mesi Mario Monti ha salvato il paese dalla catastrofe lo ritraggono mentre tira su una colonna sulla quale oscillava pericolosamente l'Italia nella slide successiva vediamo che Mario Monti dichiara abbiamo evitato il tracollo ora ci sarà finalmente la crescita nel 2013 ripartiremo perfetto questa è quella che è stata la narrazione a reti unificate di ciò che è accaduto e questo è come l'hanno riportato i giornali vogliamo analizzare qualche numero che non ha alcun colore e magari ci dice qualcosa in più analizziamo vai andiamo avanti con le slide come si vede nel 2013 l'Italia riparte fortissimo no? non si vede? è chiaro assolutamente sì è incontestabile direi beh guarda nella prima freccia rossa la prima freccia rossa indica il punto in cui Mario Monti diventa premier la seconda è quando lui si dimette a me sembra un salvataggio chiarissimo no? la prossima slide magari ci dice anche qualcosa di più carino a novembre 2011 quando Mario Monti diventa presidente del consiglio la disoccupazione italiana è all'8.6% non mi sto inventando nulla sono dati Istat come ce la riconsegna l'Italia Mario Monti? Mario Monti ci riconsegna l'Italia con la disoccupazione che sfiora il 12% puoi andare avanti con le slide la disoccupazione giovanile passa dal 30.1% quando Mario Monti diventa premier arriva a sfiorare il 40% quando lui si dimette il rapporto debito PIL che era quello che ci stava mandando alla catastrofe era al 116% Mario Monti si dimette al 131% il tasso di crescita del PIL con quel zuzzurellone di Berlusconi era un misero più 0.4% e passa al meno 2.4% insomma Monti ha salvato il paese no? mi sembra evidente questa slide te l'ho messa qui appositamente per dimostrare che i dati non me li sono inventati io e l'Istat che certifica la disoccupazione al 12% quando Monti si dimette a questo punto se non si è totalmente obnubilati dalla propaganda la domanda dovrebbe nascere spontanea e cioè ma che è successo? è possibile che hanno messo Monti per salvare il paese e Monti lo ha devastato completamente? non può essere andata così? no è invece andata proprio così? quello che è successo è molto semplice è successo che le politiche di Mario Monti hanno distrutto la domanda interna con il solo scopo di ripianare la bilancia commerciale italiana completamente squilibrata dall'euro voglio ripeterlo la bilancia commerciale italiana era completamente squilibrata dall'euro in pratica cosa succede? l'euro rende convenienti i prodotti tedeschi pertanto gli italiani ne acquistano moltissimi l'unico modo restandone l'euro per far sì che gli italiani la smettono di comprare prodotti tedeschi e fare in modo che la smettano proprio di comprare prodotti e come ha fatto Mario Monti? con la prossima slide lo vediamo questa è una citazione pressa da un'intervista che Mario Monti rilascia alla CNN nessun media italiano ha riportato questa dichiarazione tranne un blogger che se non sbaglio si chiama Claudio sì uno brutto pelato sì bio blu quel tizio ecco è una dichiarazione in cui Monti candidamente ammette che stiamo distruggendo la domanda interna italiana attraverso il consolidamento fiscale benissimo ma era veramente necessaria questa roba? veramente l'Italia era messa così male da non avere nessun nemmeno i soldi per pagare gli stipendi l'indomani? beh a me pare di no ma non sono io a dirlo se andiamo avanti con le slide questa è una slide della commissione europea presa dal suo fiscal sustainable report del 2012 che mostra come l'Italia nel breve termine non aveva alcun problema di solvibilità la slide successiva preso dallo stesso report ci mostra come nel lungo periodo eravamo l'unico paese sotto la soglia di guardia questa slide del sole 24 ore che però il sole 24 ore si cura di pubblicare solo nel 2015 ci mostra effettivamente quello che è successo e cioè che quando le banche francesi e tedesche si sono rese conto che la Grecia non avrebbe mai potuto ripagare i soldi che le avevano incautamente prestato c'è stato un gigantesco trasferimento di crediti dal bilancio delle banche a quello degli stati se vai avanti con le slide si palesa come noi eravamo messi così male che su lunghi abbiamo tirato fuori una trentina di miliardi per appianare i debiti delle banche francesi e tedesche a questo punto Claudio alle vittime della propaganda resta solo una cartuccia spuntata da sparare che è quella dello spread cioè molti mi dicono ok Alessandro hai ragione forse è vero Monti non ha salvato il paese effettivamente per il semplice fatto che non c'era nessun paese da salvare però che abbia fatto scendere lo spread è un dato di fatto voglio dire c'era Berlusconi l'aveva portato a 574 quando arriva lui lo spread scende ricontrolliamo un attimo il grafico effettivamente lo spread scende quindi ok Monti non ha salvato il paese però ci ha fatto risparmiare un sacco di interessi quel 7,246% è relativo a quando? quando è arrivato Monti? quello è quando Berlusconi il 9 novembre il top storico c'era ancora Silvio Berlusconi viene eletto Mario Monti ed effettivamente lo spread un po' resta su quelle cifre però poi nel 2012 si vede chiaramente che scende beh quindi Mario Monti ha fatto scendere lo spread però Claudio scusami puoi guardare un pochino più a destra del grafico lì in corrispondenza di luglio 2012 ma leggo male io lo spread è di nuovo a 537 se lo spread dipende dalla credibilità del premier Berlusconi non ne aveva più e quindi era andato a 500 ora c'è Monti l'uomo è l'Oden ma lo spread è ancora a 537 allora due sono le cose o nemmeno Monti è credibile oppure la credibilità del premier non c'entra una mazza con l'aumento dello spread la slide successiva ci svela il mistero eccolo lì l'unico vero Mario che ha il potere di far scendere lo spread lo spread scende una prima volta quando la BCE comincia ad acquistare titoli di stato scende dal suo top storico quando nasce l'operazione LTRO e scende definitivamente e gratis quando Mario pronuncia delle famose tre parole whatever it takes whatever it takes pertanto possiamo concludere dicendo che il fatto che Monti abbia salvato un paese è una balla doppia nel senso che non è vero e nel senso che non c'era nessun paese da salvare chi crede a questa narrazione mi dispiace ma ha dei seri problemi la verità è che l'unica cosa che è stata salvata sono le banche francesi e tedesche e l'euro ora se non ti dispiace io vorrei passare ad un altro aspetto sempre cruciale della vicenda perché come tu sai abbiamo un problema serio di informazione nel nostro paese ma dai ci dicono che se dovessimo uscire dall'euro arriverebbero le piaghe d'Egitto le cavallette io vorrei ricordare che l'euro non è una novità l'euro ha un antesignano che si chiama SME molti non se lo ricordano io me la ricordo perfettamente ci ho scritto un articolo che è sentito la SME Morati l'ho fatto appositamente cosa ci dicevano quando stava per crollare lo SME prendiamo ho preso degli articoli di Repubblica e del Corriere della Sera dell'epoca allora questo è un articolo della Repubblica del giugno 1990 Formica vuole 40.000 miliardi una manovra a colpi di tasse e riordino dei conti pubblici tutto questo ovviamente per evitare la terribile svalutazione della lira vai avanti con le slide e riappare lui Mario Monti svalutare la lira una follia non diciamo scemenze caso mai un rialzo dei tassi e segnali di risanamento andiamo avanti misure drastiche o la svalutazione 26 giugno 92 misure drastiche oppure la terribile svalutazione andiamo avanti sempre la Repubblica settembre 92 qualche giorno prima del botto Repubblica scrive prendi i bot e scappa è magnifico quel rigo che ho evidenziato in rosso non so se si vede che dice la lira non svaluterà di certo prima del 20 settembre agnelli e abete due settimane di tempo Claudio ti ricorda qualcosa questo due settimane di tempo? mi ricordo fate presto? esattamente fatto sta che comunque non bastò tutto questo terrorismo mediatico non servì a nulla perché effettivamente lo smè crollò l'Italia uscì dallo smè e la lira svalutò totalmente del 20% e quindi arrivò il disastro vediamo questo disastro questo è un articolo della Repubblica del gennaio 2013 quindi pochi mesi dopo la terribile svalutazione Italia bentornata sull'euromercato andiamo avanti sempre gennaio 93 due giorni dopo con il supermarco i piccoli sorridono eh sì Claudio perché come tu sai alla svalutazione della lira corrisponde una rivalutazione del marco quindi improvvisamente ai tedeschi convengono i prodotti italiani andiamo avanti la svalutazione ci ha fatto bene chi è questo? chi è? è Mario Monti non si può raccontare non si può raccontare che Mario Monti un anno prima ci dice svalutare la lira è una follia un anno dopo la svalutazione ci ha fatto bene la lira anticrisi scaccia il pessimismo ma non doveva essere un disastro tornare alla lira a questo punto la domanda nasce spontanea e la Germania come sta andando con il suo Marconi come sta andando? vediamola un po' Germania ma è così in basso e sotto vedi made in Italy ma è così bene e sì perché è un dato di fatto la Germania è il nostro principale competitor e se ci permettono di competere noi non abbiamo rivali perché questa è la realtà che gli italiani non hanno rivali a questo punto le cose sono ormai palesi tant'è che il Corriere è costretto a dedicare un'intera pagina alla lira bilancia commerciale senza precedenti nel 1995 insomma Claudio le cose stanno andando non bene benissimo l'Italia è ripartita vorrei che si precisasse però questo chi va dicendo in giro che uscire dall'euro sarebbe la soluzione a tutti i mali è un celtrone la realtà è che uscire dall'euro è una condizione necessaria ma non sufficiente ma è necessaria è un dato di fatto perché quando noi abbiamo una moneta che è parametrata alla nostra economia questo è quello che succede insomma ti dicevo l'Italia sta andando benissimo la Germania sta andando malissimo vuoi andare avanti con le slide l'ira l'Europa tifa per il ritorno nello smè ma di chi sarà quest'ideona Mario Monti non mi dire è un caro amico è Romano Prodi è lui sta di fatto che rientriamo nello smè e cosa succede quando rientriamo nello smè questo grafico lo mostra alla perfezione immediatamente la bilancia commerciale della Germania torna a crescere e quella italiana torna sottoterra e sopra che cosa c'è sopra c'è la bilancia commerciale della Germania che come si vede fino a quando noi restiamo fuori dallo smè linea rossa seconda linea rossa esattamente è bassa sta andando sotto zero sotto zero mentre quella italiana sta sopra restiamo nello smè boom va da bella perfetto è andata bene ok ma vorrei che si sapesse che le dinamiche di un cambio fisso sono note a queste persone almeno dal 1978 cioè da 40 anni quando l'allora ministro dell'interno se non sbaglio Giorgio Napolitano fece questo discorso alla camera quando Giorgio Napolitano era contrario alla moneta unica ma dai Giorgio Napolitano nel 1978 in una riunione della direzione del partito comunista si disse totalmente contrario all'adozione dello smè perché disse testualmente che avrebbe avvantaggiato la Germania e distrutto la produzione industriale italiana e questi signori che cambiano un'idea ogni 5 minuti a seconda delle convenienze politiche io cosa vuoi che ti dica Claudio io posso dirti che ho raccolto una carrellata di tweet dichiarazioni interviste di politici imprenditori intellettuali noti sulla materia mostriamola questo è per Luigi Bersani che il 21 maggio 2010 dichiara forse chi allora aggredì i prodi ora si rende conto che senza l'euro saremo nel Mediterraneo con della carta straccia in tasca c'è una prova un link una fonte un documento non c'è niente lo dice lui fidatevi andiamo avanti lo smacchiatore di Jaguari continua e dice non si confonda la malattia con la cura la malattia è la destra che ha zoppato l'Europa dopo l'euro non l'euro sempre Bersani uscita dall'euro i conti li hanno già fatti e li hanno rimessi nei cassetti ora uno potrebbe chiedere gli scusi dove sono i conti no non ci sono lo dichiara lui così a porta a porta sempre Bersani l'uscita dall'euro porterebbe a una recessione di proporzioni cosmiche c'è uno studio qualcosa non c'è niente c'è una dichiarazione sua fidatevi è così qui c'è l'esperto di economia Nichi Vendola che dice che se domani dovessi comprare un euro avendo a disposizione solo le lire mi costerebbe non meno di 2700 lire a occhio fidatevi ci dicono che siamo più poveri per colpa dell'euro non è vero ma infatti vai avanti lui lo sa che era lui lo sa la BCE che ne sa è lui che lo sa la BCE che dichiara che l'euro è stato un disastro per l'Italia non capisce nulla in realtà e Vendola al vero esperto potevano mettere Vendola al capo della BCE non capisco perché non l'hanno fatto certo andiamo avanti Claudio perché c'è ancora da divertirsi Cuperlo uscire dall'euro svalutazione moneta stangata sui mutui pagheremo tutto di più 10.000 euro a cittadino all'anno a conti fatti sono 600 miliardi di euro all'anno io non so se la gente si rende conto delle fregnacce che questa gente spara in assoluta libertà andiamo avanti Claudio qui abbiamo una dichiarazione di squinzi di confindustria di confindustria assolutamente sì uscire dall'euro un crollo del pil del 30% così le cavallette le cavallette certo andiamo avanti Marchionne ovviamente subito gli fa eco se l'Italia dovesse uscire dall'euro gli investimenti della Fiat sarebbero inviati poi guarda caso l'Italia non è uscita dall'euro ma lui ha fatto uscire la Fiat dall'Italia chissà perché vai avanti Claudio l'Espresso cosa succede se torna la lira prezzi alle stelle mutui triplicati inflazione senza freni c'è uno studio una fonte qualcosa no c'è una dichiarazione gli esperti gli esperti gli esperti andiamo avanti perché gli esperti sono Bersani Nicchi Vendola certo sono loro c'è sempre l'Espresso senza l'euro il disastro questa è bellissima Claudio a Ballarò ci dicono che se dovessimo uscire dall'euro per comprare un caffè ci vorrebbe una carriola di monete ci mettono anche il disegnino dimmi se questo non è terrorismo mediatico questa è cretineria economica più che altro e però la Sciuramaria a casa chissà cosa pensa espertona di economia la Racomi se l'Italia dovesse uscire dall'euro lo vedi lì giù c'è il 20% di riduzione dei risparmi il 30% dell'aumento del debito pubblico e un'altra serie di disastri epocali e qui abbiamo Giorgio Napolitano te lo ricordi cosa diceva nel 78? nel 78 diceva che la moneta unica ci avrebbe devastato nel 2014 ha leggerissimamente cambiato idea uscire dall'euro sarebbe velleitario e pericoloso questo è il suo discorso di fine anno ora la domanda che io ti pongo Claudio è come può il pubblico farsi un'opinione davvero formata su quello che accadrebbe su quello che sta accadendo su quello che accadrà con un'informazione di questo tipo è evidente che c'è un terrorismo mediatico fortissimo volto ad orientare l'opinione pubblica da una determinata parte che ci sta distruggendo che ci ha già distrutto quindi il vero problema di questo paese è la corretta informazione è un grosso grosso problema beh ma adesso ci sono le nomini dei vertici RAI quindi sicuramente risolveremo e infatti stanno spingendo fortissimo su cercano in tutti i modi di mettere zizzagna tra Lega e 5 Stelle o anche internamente i 5 Stelle per fare in modo che il governo non vada avanti io auspico come ho già detto al Parlamento qualche giorno fa non ho detto che questo governo sia il governo dei miei sogni però sono assolutamente certo che quello precedente era quello dei miei incubi bene Alessandro Greco quindi Mario Monti ci ha salvato chiaramente assolutamente sì ormai lo hanno visto tutti spero che questo video abbia la diffusione che merita ci tengo a precisare ma penso sia abbastanza palese che non ho inventato la ruota ho solo ripreso ho fatto una ricostruzione giornalistica che basata su fatti mi sembra di vedere ricostruzione giornalistica in questo paese è un'anomalia quindi certo una ricostruzione dei fatti dai mettiamola così se uno ti cerca in rete dove ti trova? mi trova su twitter dove sono molto attivo grazie Alessandro torno presto a trovarci grazie a te Claudio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti